Ciao, come sai Amica Veterinaria nasce per la divulgazione e per farti conoscere tutti gli aspetti della salute del cane e del gatto. Angela è stata la mia prima collaboratrice e mi ha aiutato a farti conoscere tutti gli aspetti della dieta casalinga e dell'alimentazione. Grazie a Valentina ed Amica Veterinaria tramite video e reel sono riuscita ad entrare proprio nelle vostre case e a spiegarvi gli aspetti più importanti dell'alimentazione del vostro cane e del vostro gatto. Giornalmente mi occupo anche di formulare appositamente per voi diete casalinghe. Collaborando con Angela mi sono resa conto che molti di voi chiedevano un cibo della stessa qualità delle sue ricette ma già pronto da portarsi in vacanza soprattutto o più comodo da somministrare al vostro cane quando non avevate tempo di fare la spesa o cucinare per lui. Anch'io infatti mi trovavo in difficoltà e non sapevo mai cosa consigliarvi non conoscendo esattamente i processi produttivi dei prodotti già in commercio e soprattutto non potevo garantire che fosse della stessa qualità delle diete casalinghe fatte da voi in casa grazie al mio aiuto. Ecco che abbiamo pensato, formulato e preparato per voi le pappe di Amica Veterinaria che sono esattamente uguali alle ricette che vi fa Angela per la dieta casalinga, sono solo più comode da portarvi ovunque vogliate. Ho creato più ricette e quindi trovate più gusti. La cosa più importante è che sono tutte complete ovvero contengono tutti i sali minerali, calcio e fosforo e le vitamine anche quelle più termolabili che assicurano un'adeguata nutrizione per il vostro cane quindi non serve che aggiungiate nient'altro. Gli ingredienti dentro le pappe di Amica Veterinaria vengono tutti dalla filiera umana e sono gusti monoproteici. Nel caso infatti il tuo cane sia allergico a una proteina puoi scegliere il gusto al quale non è allergico. Se il tuo cane è sano e non ha nessuna allergia ad una determinata proteina puoi variare i vari gusti a tuo piacere. Per ogni ricetta sono disponibili due grammature da 150 e da 400 grammi. Guarda qui sotto e scegli il prodotto che più ti piace e ricordati che la sua salute. Pasta dalla ciotola. Ciao!